Giosuè capitolo primo Ora avvenne dopo la morte di Mosè, servo dell'Eterno, che l'Eterno parlò a Giosuè, figliuolo di Nun, ministro di Mosè, e gli disse, Mosè mio servo è morto, ordunque levati, passa questo Giordano tu con tutto questo popolo per entrare nel paese che io do ai figliuoli di Israele. Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve la do, come ho detto a Mosè, dal deserto e dal Libano che vedi là, sino al gran fiume, il fiume Ofrate, tutto il paese degli Ittei, sino al mar grande verso Occidente, quello sarà il vostro territorio. Nessuno ti potrà stare a fronte tutti i giorni della tua vita, come sono stato con Mosè, così sarò teco, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Sii forte, e fatti animo, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dare ad essi. Solo sii forte, e fatti risolutamente animo, avendo cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè mio servo t'ha data, non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, avendo cura di mettere in pratica tutto ciò che v'è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Non te l'ho io comandato? Sii forte, e fatti animo, non ti spaventare, e non ti sgomentare, perché l'Eterno, il tuo Dio sarà teco, ovunque andrai. Allora Giosuè diede quest'ordine agli ufficiali del popolo, passate per mezzo al campo e date quest'ordine al popolo, preparatevi dei viveri, perché di qui a tre giorni passerete questo Giordano per andare a conquistare il paese che l'Eterno, il vostro Dio, vi dà, perché lo possediate. Giosuè parlò pure ai Rubeniti, ai Gaditi e alla mezza tribù di Menasse, e disse loro, Ricordatevi dell'ordine che Mosè, servo dell'Eterno, vi dette, quando vi disse, l'Eterno, il vostro Dio, vi ha concesso requi e vi ha dato questo paese. Le vostre mogli, i vostri piccini, il vostro bestiame, rimarranno nel paese che Mosè vi ha dato di qua dal Giordano. Ma voi tutti, che siete forti e valorosi, passerete in armi alla testa dei vostri fratelli, e li aiuterete, finché l'Eterno abbia concesso requi ai vostri fratelli come a voi, e siano anch'essi in possesso del paese che l'Eterno, il vostro Dio, dà a loro. Poi tornerete al paese che vi appartiene, il quale Mosè, servo dell'Eterno, vi ha dato di qua dal Giordano verso il Levante, e ne prenderete possesso. E quelli risposero a Giosuè, dicendo, Noi faremo tutto quello che ci hai comandato, e andremo dovunque ci manderai. Ti ubbidiremo interamente, come abbiamo ubbidito a Mosè. Solamente sia te, con l'Eterno, il tuo Dio, come è stato con Mosè. Chiunque sarà ribelle ai tuoi ordini, e non ubbidirà alle tue parole, qualunque sia la cosa che gli comanderai, sarà messo a morte. Solo sii forte, e fatti animo. Giosuè, capitolo secondo Or Giosuè, figliuolo di Nun, mandò segretamente da sit in due spie, dicendo, Andate, esaminate il paese e Gerico. E quelle andarono ed entrarono in casa di una meretrice per nome Rahab, e qui vi alloggiarono. La cosa fu riferita al re di Gerico, e gli fu detto, Ecco, certi uomini di tre figliuoli d'Israele sono venuti qui stanotte per esplorare il paese. Allora il re di Gerico mandò a dire a Rahab, Fa uscire quegli uomini che sono venuti da te e sono entrati in casa tua, perché sono venuti a esplorare tutto il paese. Ma la donna prese quei due uomini, li nascose, e disse, E' vero, quegli uomini sono venuti in casa mia, ma io non sapevo donde fossero. E quando si stava per chiudere la porta sul far della notte, quegli uomini sono usciti. Dove siano andati non lo so, rincorreteli senza perder tempo e li raggiungerete. Or essa li aveva fatti salire sul tetto, e li aveva nascosti sotto del lino non ancora gramolato, che aveva disteso sul tetto. E la gente le rincorse per la via che mena i guadi del Giordano, e non appena quelli che le rincorrevano furono usciti, la porta fu chiusa. Or prima che le spie si addormentassero, Rahab salì da loro sul tetto, e disse a quegli uomini, Io so che l'Eterno vi è dato il paese, che il terrore del vostro nome ci ha invasi, e che tutti gli abitanti del paese hanno perso coraggio davanti a voi, poiché noi abbiamo udito come l'Eterno asciugò le acque del Mar Rosso dinanzi a voi quando usciste dall'Egitto, e quel che faceste ai due re degli amorei di là dal Giordano, Sion e Nog, che votaste allo sterminio, e non appena abbiamo udito, il nostro cuore s'è strutto e non è più rimasto coraggio in alcuno per via di voi, poiché l'Eterno, il vostro Dio, è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra. Or dunque vi prego, giuratemi per l'Eterno, giacché io vi ho trattati con bontà, che anche voi tratterete con bontà la casa di mio padre, e datemi un pegno sicuro che salverete la vita a mio padre, a mia madre, ai miei fratelli, alle mie sorelle, e a tutti i loro che ci presenterete dalla morte. E quegli uomini risposero, Siamo pronti a dare la nostra vita per voi, se non divulgate questo nostro affare, e quando l'Eterno ci avrà dato il paese, noi ti tratteremo con bontà e lealtà. Allora ella li calò giù dalla finestra con una fune, poiché la sua abitazione era addossata alle mura della città, ed ella stava di casa sulle mura, e disse loro, Andate verso il monte affinché quelli che vi rincorrono non vi incontrino, e nascondetevi qui per tre giorni fino al ritorno di coloro che vi inseguono, poi ve ne andrete per la vostra strada. E quegli uomini le dissero, Noi saremo sciolti dal giuramento che ci hai fatto fare, se tu non osservi quello che stiamo per dirti. Ecco, quando entreremo nel paese, attaccherai alla finestra per la quale ci fai scendere questa cordicella di filo scarlato, e radunerai presso di te, in casa, tuo padre, tua madre, i tuoi fratelli, e tutta la famiglia di tuo padre. E se alcuno di questi uscirà in strada dalla porta di casa tua, il suo sangue ricadrà sul suo capo, e noi non ne avremo in colpa, ma il sangue di chiunque sarà teco in casa ricadrà sul nostro capo, se uno gli metterà le mani addosso. E se tu divulghi questo nostro affare, saremmo sciolti dal giuramento che ci hai fatto fare, e della di sé, Sia come dite. Poi lì accometò, e quelli se ne andarono, ed essi attaccò la cordicella scarlata alla finestra. Quelli dunque partirono, e se ne andarono al monte, dove rimasero tre giorni, fino al ritorno di quelli che li rincorrevano, i quali lì cercarono per tutta la strada, ma non li trovarono. E quei due uomini ritornarono, scessero dal monte, passarono il Giordano, vennero a Giosuè, figliuolo di Nun, e gli raccontarono tutto quello che era loro successo, e dissero a Giosuè, Certo l'Eterno ha dato in nostra mano tutto il paese, e già tutti gli abitanti del paese han perso coraggio dinanzi a noi. Giosuè, capitolo terzo E Giosuè si levò la mattina di buon'ora con tutti i figliuoli di Israele, partì da Sitim, essi arrivarono a Giordano, e qui vi fecero alto prima di passarlo. In capo a tre giorni, gli ufficiali percorsero il campo e dettero quest'ordine al popolo. Quando vedrete l'arca del patto dell'Eterno che è il vostro Dio, portata dai sacerdoti levitici, partire dal luogo dove siete accampati, andrete dietro ad essa. Però vi sarà tra voi e l'arca alla distanza di un tratto di circa duemila cubiti. Non vi accostate ad essa, affinché possiate vedere bene la via per la quale dovete andare, poiché non siete ancora mai passati per questa via. E Giosuè disse al popolo, santificatevi, poiché domani l'Eterno farà delle meraviglie in mezzo a voi. Poi Giosuè parlò ai sacerdoti, dicendo, prendete in spalla l'arca del patto e passate davanti al popolo. Ed essi presero in spalla l'arca del patto e camminarono davanti al popolo. E l'Eterno disse a Giosuè, Oggi comincerò a renderti grande agli occhi di tutto Israele, affinché riconoscano che, come fui con Mosè, così sarò con te. E tu dà ai sacerdoti che portano l'arca del patto quest'ordine. Quando sarete giunti alla riva delle acque del Giordano, vi fermerete nel Giordano. E Giosuè disse ai figlioli d'Israele, Fatevi da presso, e ascoltate le parole dell'Eterno del vostro Dio. Poi Giosuè disse, Da questo riconoscerete che l'Iddio vivente è in mezzo a voi, e che egli caccerà certamente dinanzi a voi i Cananei, gli Ittei, gli Ivei, i Feresei, i Girgasei, gli Amorei e i Gesubiti. Ecco, l'arca del patto del Signore di tutta la terra sta per passare davanti a voi per entrare nel Giordano. Ordunque, prendete dodici uomini fra le tribù di Israele, uno per tribù, e avverrà che non appena i sacerdoti recanti l'arca del patto del Signore di tutta la terra avranno posato le piante dei piedi nelle acque del Giordano, le acque del Giordano che scendano d'insù saranno tagliate e si fermeranno in un mucchio. E avvenne che quando il popolo fu uscito dalle sue tende per passare il Giordano avendo dinnanzi a lui i sacerdoti che portavano l'arca del patto, appena quelli che portavano l'arca giunsero al Giordano e i sacerdoti che portavano l'arca ebbero tuffati i piedi nell'acqua della riva, il Giordano straripava da tutto durante il tempo della messe, le acque che scendevano d'insù si fermarono e si elevarono in un mucchio a una grandissima distanza fino presso la città di Adan che è al lato di Zartan e quelle che scendevano verso il mare nella pianura il mar salato furono interamente separate da esse e il popolo passò di rimpetto a Gerico e i sacerdoti che portavano l'arca del patto dell'Eterno stettero a pie fermo nell'asciutto in mezzo al Giordano mentre tutto Israele passava per l'asciutto finché tutta la nazione ebbe finito di passare il Giordano Giosuè capitolo quarto or quando tutta la nazione ebbe finito di passare il Giordano l'Eterno aveva parlato a Giosuè dicendo prendete tra il popolo dodici uomini uno per tribù e date loro quest'ordine pigliate di qui di mezzo al Giordano dal luogo dove i sacerdoti sono stati a pie fermo dodici pietre portatele con voi di là dal fiume e collocatele nel luogo dove accamperete stanotte Giosuè chiamò i dodici uomini che aveva disegnati tra i figlioli di Israele un uomo per tribù e disse loro passate davanti all'arca dell'Eterno del vostro Dio in mezzo al Giordano e ognuno di voi tolga in spalla una pietra secondo il numero delle tribù dei figlioli di Israele affinché questo sia un segno in mezzo a voi quando in avvenire i vostri figlioli vi domanderanno che significano per voi queste pietre voi risponderete loro le acque del Giordano furono tagliate dinnanzi all'arca del patto dell'Eterno quando essa passò il Giordano le acque del Giordano furono tagliate e queste pietre sono per i figlioli di Israele una ricordanza in perpetuo i figlioli di Israele fecero dunque come Giosuè aveva ordinato pesero dodici pietre di mezzo al Giordano come l'Eterno aveva detto a Giosuè secondo il numero delle tribù dei figlioli di Israele le portarono con loro di là dal fiume nel luogo dove dovevano passare la notte e qui vi le collocarono Giosuè rizzò pure dodici pietre in mezzo al Giordano nel luogo dove serano fermati i piedi dei sacerdoti che portavano l'arco del patto e vi sono rimaste fino al di d'oggi i sacerdoti che portavano l'arca rimasero fermi in mezzo al Giordano finché tutto quello che l'Eterno aveva comandato a Giosuè di dire al popolo fosse eseguito conformemente agli ordini che Mosè aveva dato a Giosuè e il popolo si affrettò a passare quando tutto il popolo ebbe finito di passare l'arca dell'Eterno coi sacerdoti passò anch'essa in presenza del popolo e figlioli di Ruben e figlioli di Gad e mezzo alla tribù di Menasse passarono in armi davanti ai figlioli di Israele come Mosè aveva loro ordinato circa quarantamila uomini pronti di tutto punto per la guerra passarono davanti all'Eterno nelle pianure di Gerico per andare a combattere in quel giorno l'Eterno resse grande Giosuè agli occhi di tutto Israele ed essi lo temettero come avevano temuto Mosè tutti i giorni della sua vita or l'Eterno parlò a Giosuè e gli disse ordina ai sacerdoti che portano l'arca della testimonianza di uscire dal Giordano Giosuè Giosuè di ade quest'ordine ai sacerdoti uscite dal Giordano e avvenne che come i sacerdoti che portavano l'arca del patto dell'Eterno furono usciti di mezzo al Giordano e le piante dei loro piedi si furono alzate posate sull'asciutto le acque del Giordano tornarono al loro posto e strariparono dappertutto come prima il popolo uscì dal Giordano il decimo giorno del primo mese e si accampò a Gilgal all'estremità orientale di Gerico e Giosuè rizzò in Gilgal le dodici pietre che si avevano prese dal Giordano poi parlò ai figlioli di Israele e disse loro quando in avvenire i vostri figlioli domanderanno ai loro padri che significano queste pietre voi lo farete sapere ai vostri figlioli dicendo Israele passò questo Giordano per l'asciutto poiché l'Eterno il vostro Dio ha asciugato le acque del Giordano davanti a voi affinché voi foste passati come l'Eterno il vostro Dio fece al Mar Rosso che li asciugò finché fossimo passati onde tutti i popoli della terra riconoscano che la mano dell'Eterno è potente e voi temiate in ogni tempo l'Eterno il vostro Dio Giosuè capitolo quinto or come tutti i re degli Amorei che erano di là dal Giordano verso Occidente e tutti i re dei Cananei che erano presso al mare udirono che l'Eterno aveva asciugate le acque del Giordano davanti ai figlioli di Israele finché fossero passati il loro cuore si strusse e non rimase più in loro alcun coraggio di fronte ai figlioli di Israele in quel tempo l'Eterno disse a Giosuè fatti dei coltelli di pietra e torna di nuovo a circoncidere i figlioli di Israele e Giosuè si fece dei coltelli di pietra e circoncise i figlioli di Israele sul colle di Aralot questo fu il motivo per cui li circoncise tutti i maschi del popolo usciti dall'Egitto cioè tutti gli uomini di guerra erano morti nel deserto durante il viaggio dopo essere usciti dall'Egitto or tutto questo popolo usciva dall'Egitto ed era circonciso ma tutto il popolo nato nel deserto durante il viaggio dopo l'uscita dall'Egitto non era stato circonciso poiché i figlioli di Israele avevano camminato per quarant'anni nel deserto finché tutta la nazione cioè tutti gli uomini di guerra che erano usciti dall'Egitto furono distrutti perché non avevano ubbidito alla voce dell'Eterno l'Eterno aveva loro giurato che non farebbe loro vedere il paese che aveva promesso con giuramento ai loro padri di darci paese dove scorre il latte e il miele e sostituì ai loro i loro figlioli e questi Giosuelli circoncise perché erano incirconcisi non essendo stati circoncisi durante il viaggio e quando si ebbe finito di circoncidere tutta la nazione quelli che rimasero al loro posto nel campo finché fossero guariti e l'Eterno disse a Giosuè oggi vi ho tolto di dosso il vituperio dell'Egitto e quel luogo fu chiamato Gilgal nome che dura fino al di d'oggi i figlioli di Israele si accamparono a Gilgal celebrarono la Pasqua il quattordicesimo giorno del mese sulla sera nelle pianure di Gerico e l'indomani della Pasqua in quel preciso giorno mangiarono dei prodotti del paese pani azimi e grana rostito e la manna cessò l'indomani del giorno in cui mangiarono dei prodotti del paese e i figlioli di Israele non ebbero più manna ma mangiarono quell'anno stesso del frutto del paese di Cana ora venne come Giosuè era preso a Gerico che gli alzò gli occhi e guardò ed ecco un uomo gli stava ritto davanti con in mano la spada snudata Giosuè andò verso di lui e gli disse sei tu dei nostri o dei nostri nemici e quello rispose no io sono il capo dell'esercito dell'Eterno arrivo adesso allora Giosuè cade con la faccia a terra si prostrò e gli disse che cosa vuoi dire il mio signore al tuo servo e il capo dell'esercito dell'Eterno disse Giosuè levati i calzari dei piedi perché il luogo dove stai è santo e Giosuè fece così Giosuè capitolo sesto Orgerico era ben chiusa e barricata per paura dei figlioli di Israele nessuno ne usciva e nessuno ventrava e l'Eterno disse Giosuè vedi io do in tua mano Gerico il suo re i suoi prodiguerrieri voi tutti dunque uomini di guerra circuite la città facendone il giro una volta così farai per sei giorni e sette sacerdoti porteranno davanti l'arca sette trombe squillanti il settimo giorno farete il giro della città sette volte e i sacerdoti suoneranno le trombe e avverrà che quando essi suoneranno a distesa il corno squillante e voi udrete il suono delle trombe tutto il popolo darà in un gran grido e le mura della città crolleranno e il popolo salirà ciascuno diritto dinanzi a sé allora Giosuè figliolo di Nun chiamò i sacerdoti e disse loro prendete l'arca del patto e sette sacerdoti portino sette trombe squillanti davanti all'arca dell'eterno poi disse al popolo andate fate il giro della città e l'avanguardia preceda l'arca dell'eterno quando Giosuè ebbe parlato al popolo i sette sacerdoti che portavano le sette trombe squillanti davanti all'eterno si misero in marcia suonando le trombe e l'arca del patto dell'eterno teneva loro dietro e l'avanguardia marciava davanti ai sacerdoti che suonavano le trombe e la retroguardia seguiva l'arca durante la marcia i sacerdoti suonavano le trombe or Giosuè aveva dato al popolo quest'ordine non gridate fate che non so dalla vostra voce e non vesca parola di bocca fino al giorno che io vi dirò gridate allora griderete così fece fare all'arca dell'eterno il giro della città una volta poi entrarono nel campo qui vi passarono la notte Giosuè si levò la mattina di buon'ora i sacerdoti presero l'arca dell'eterno i sette sacerdoti che portavano le sette trombe squillanti davanti all'arca dell'eterno s'avanzavano sonando le trombe durante la marcia l'avanguardia li precedeva la retroguardia seguiva l'arca dell'eterno e durante la marcia i sacerdoti suonavano le trombe il secondo giorno circuirono la città una volta poi tornarono al campo così fecero per sei giorni il settimo giorno levatisi la mattina lo spuntare dell'alba fecero sette volte il giro della città in quella stessa maniera solo quel giorno fecero il giro della città sette volte la settima volta come i sacerdoti suonavano le trombe Giosuè disse al popolo gridate perché l'eterno va dato la città e la città con tutto quel che contiene sarà sacrata all'eterno per essere sterminata come un interdetto solo Rahab la meretrice avrà salva la vita lei e tutti quelli che saranno in casa con lei perché nascose i messaggeri che noi avevamo inviati e voi guardatevi bene da sciocche votate all'interdetto affinché non siate voi stessi votati allo sterminio prendendo qualche cosa di interdetto non rendiate maledetto il campo di Israele gettandovi lo scompiglio ma tutto l'argento l'oro gli oggetti di rame e di ferro saranno consacrati all'eterno e entreranno nel tesoro dell'eterno il popolo dunque gridò e i sacerdoti suonarono le trombe e avvenne che quando il popolo ebbe udito il suono delle trombe diede un gran grido e le mura crollarono il popolo salì nella città ciascuno diritto davanti a sé e si impadronirono della città e votarono allo sterminio tutto ciò che era nella città passandolo a fil di spada uomini donne fanciulli e vecchi e buoi e pecore e asini e Gesù disse ai due uomini che avevano esplorato il paese andate in casa di quella meretrice menatela fuori con tutto ciò che le appartiene come glielo avete giurato e quei giovani che avevano esplorato il paese entrarono nella casa e ne fecero uscire Rahab suo padre sua madre e suoi fratelli e tutto quello che le apparteneva ne fecero uscire anche tutte le famiglie dei suoi e li collocarono fuori del campo di Israele poi i figlioli di Israele diedero fuoco alla città e a tutto quello che conteneva presero soltanto l'argento l'oro gli oggetti di rame e di ferro che misero nel tesoro della casa dell'Eterno ma a Rahab la meretrice alla famiglia di suo padre e a tutti i suoi Gesù lasciò la vita ed ella dimorato in mezzo ad Israele fino al dì d'oggi perché aveva nascosto i messi che Giosuè aveva mandati ad esplorare Gerico allora Giosuè fece questo giuramento sia maledetto nel cospetto dell'Eterno l'uomo che si leverà a riedificare questa città di Gerico e ne getterà le fondamenta sul suo primo genito e ne rizzerà le porte sul più giovane dei suoi figlioli l'Eterno fu con Giosuè e la fama di lui si sparse per tutto il paese Giosuè capitolo settimo ma i figlioli di Israele commisero un'infedeltà circa l'interdetto poiché Acam figliolo di Carmi figliolo di Zebdai figliolo di Zerac della tribù di Giuda prese dell'interdetto e l'ira dell'Eterno s'accesse contro i figlioli di Israele Giosuè mandò degli uomini da Gerico ad Ai che è vicina a Bethaven a oriente di Beto e disse loro salite ad esplorare il paese e quelli salirono ed esplorarono Ai poi tornarono da Giosuè e gli dissero non occorre che salga tutto il popolo ma salgano due o tre mila uomini e sconfiggeremo Ai non stancare tutto il popolo mandandolo là perché quelli sono in pochi così vi salirono tre mila uomini di tra il popolo i quali si dettero alla fuga davanti alla gente di Ai e la gente di Ai ne uccise circa trentasei e li inseguì alla porta fino a Shebarim e li mise in rotta nell'ascesa il cuore del popolo si strusse e divenne come acqua Giosuè si stracciò le vesti e si gettò col viso a terra davanti all'arca dell'Eterno e stette così fino alla sera con gli anziani di Israele e si gettarono della polvere sul capo e Giosuè disse ai Signore Eterno perché hai tu fatto passare il Giordano a questo popolo per darci in mano degli amorei per farci perire o ci fossimo pur contentati di rimanere di là da Giordano ahimè Signore che dirò io ora che Israele ha voltato le spalle ai suoi nemici i cananei tutti gli abitanti del paese lo verranno a sapere ci avvolgeranno e faranno sparire il nostro nome dalla terra e tu che farai del tuo gran nome e l'Eterno disse Giosuè levati perché ti sei tu così prostrato con la faccia a terra Israele ha peccato essi hanno trasgredito il patto che io avevo loro comandato ad osservare perfino preso dell'interdetto l'han perfino rubato l'han perfino mentito e l'hanno messo fra i loro bagagli perciò figlioli di Israele non potranno stare a fronte dei loro nemici e volteranno le spalle davanti a loro perché sono divenuti essi stessi interdetti io non sarò più con voi se non distruggerete l'interdetto di mezzo a voi levati santifica al popolo e digli santificatevi perché domani così ha detto l'Eterno l'Idio di Israele o Israele non c'è di interdetto in mezzo a te tu non potrai stare di fronte ai tuoi nemici finché non abbiate tolto l'interdetto di mezzo a voi domattina dunque va accosterete tribù per tribù e la tribù che l'Eterno designerà si accosterà famiglia per famiglia e la famiglia che l'Eterno designerà si accosterà casa per casa e la casa che l'Eterno avrà designata si accosterà persona per persona e colui che sarà designato come avendo preso dell'interdetto sarà dato alle fiamme con tutto quello che gli appartiene perché ha trasgredito il patto dell'Eterno e ha commesso un'infamia in Israele Giosuè dunque si levò la mattina di buona ora fece accostare Israele tribù per tribù la tribù di Giuda fu designata poi fece accostare le famiglie di Giuda e la famiglia degli Zerachiti fu designata poi fece accostare la famiglia degli Zerachiti persona per persona e Zabdi fu designato poi fece accostare la casa di Zabdi persona per persona e fu designato Acan figliolo di Carmi figliolo di Zabdi figliolo di Zerach della tribù di Giuda allora Giosuè disse ad Acan figliolo mio da gloria all'Eterno all'Idio di Israele rendigli omaggio e dimmi quello che hai fatto non me lo celare Acan rispose a Giosuè e disse è vero ho peccato contro l'Eterno l'Idio di Israele ed ecco precisamente quello che ho fatto ho veduto fra le spoglie un bel mantello di Cinear duecento sicli d'argento e una verga d'oro del peso di cinquanta sicli ho bramato quelle cose le ho prese ecco sono nascoste in terra in mezzo alla mia tenda e l'argento è sotto allora Giosuè mandò dei messi i quali corsero alla tenda ed ecco che il mantello vera nascosto e l'argento stava sotto essi presero quelle cose di mezzo alla tenda e le portarono a Giosuè e a tutti i figlioli di Israele le deposero davanti all'Eterno e Giosuè e tutto Israele con lui presero Acan figliolo di Zerac l'argento il mantello la vergadoro e i suoi figlioli le sue figlioli i suoi bovi i suoi asini le sue pecore e la sua tenda e tutto quello che gli apparteneva li fecero salire nella valle di Acor e Giosuè disse perché ci hai così tu conturbati l'Eterno conturberà te in questo giorno e tutto Israele lo lapidò e dopo aver lapidati gli altri dettero tutti alle fiamme poi ammassarono sopra Can un gran mucchio di pietre che dura fino a di doggi e l'Eterno acquetò l'ardente sua ira perciò quel luogo è stato chiamato fino ad oggi la valle di Acor Giosuè capitolo ottavo poi l'Eterno disse a Giosuè non temere e non ti sgomentare prendi te con tutta la gente di guerra levati e sali contro ad Ai guarda io do in tua mano il re di Ai il suo popolo la sua città e il suo paese e tu tratterai Ai e il suo re come hai trattato Gerico e il suo re ne prenderete per voi soltanto il bottino e il bestiame tendi un'imboscata dietro alla città Giosuè dunque con tutta la gente di guerra si levò per salire contro ad Ai egli scelse trentamila uomini valenti e prodi e li fece partire di notte e diede loro quest'ordine ecco vi fermerete imboscati dietro alla città non vallontanate troppo dalla città e siate tutti pronti io e tutto il popolo che è Beco ci accosteremo alla città e quando essi ci usciranno contro come la prima volta ci metteremo in fuga dinanzi a loro essi ci inseguiranno finché noi li abbiamo lungi dalla città perché diranno essi fuggono dinanzi a noi come la prima volta e fuggiremo dinanzi a loro voi allora uscirete dall'imboscata e vi impadronirete della città l'Eterno il vostro Dio la darà in vostra mano e quando avrete preso la città la incendierete farete come ha detto l'Eterno badate bene questo è l'ordine che io vi ho dato così Giosuè li mandò e quelli andarono al luogo dell'imboscata e si fermarono fra Beto e Ai apponente Dai ma Giosuè rimase quella notte in mezzo al popolo e la mattina levatosi di buon'ora passò in rivista il popolo e salì contro Ai egli con gli anziani di Israele alla testa del popolo e tutta la gente di guerra era con lui salì si avvicinò giunse di rimpetto alla città e si accampò a nord di Ai tra lui e Dai c'era una valle Giosuè prese circa cinquemila uomini coi quali tese un'imboscata fra Beto ed Ai apponente della città e dopo che tutto il popolo ebbe preso campo a nord della città e tese l'imboscata apponente della città Giosuè durante quella notte si spinse avanti in mezzo alla valle quando il re Dai vide questo la gente della città si levò in fretta di buon mattino e il re e tutto il suo popolo uscirono contro a Israele per dargli battaglia al punto convenuto al principio della pianura perché il re non sapeva che c'era un'imboscata contro di lui dietro la città allora Giosuè e tutto Israele facendo vista ad essere battuti da quelli si misero in fuga verso il deserto e tutto il popolo che era nella città fu chiamato a raccolta per inseguirli e inseguirono Giosuè e furono tratti lungi dalla città non ci fu un uomo in Ai e in Beto che non uscisse contro a Israele lasciarono la città aperta e inseguirono Israele allora l'Eterno disse a Giosuè stendi verso Ai la lancia che hai in mano perché io sto per dare Ai in tuo potere e Giosuè stese verso la città la lancia che aveva in mano e subito non appena ebbe stesa la mano gli uomini dell'imboscata sorsero dal luogo dove erano entrarono di corse nella città la presero e si affrettarono ad appiccarvi il fuoco e la gente dai volgendosi indietro guardò ed ecco che il fumo della città saliva al cielo e non vi fu per loro alcuna possibilità di fuggire né da una parte né dall'altra perché il popolo che fuggiva verso il deserto si era voltato contro quelli che lo inseguivano e Giosuè e tutto Israele vedendo che quelli dell'imboscata avevano preso la città e che il fumo saliva dalla città tornarono indietro e batteron la gente dai anche gli altri uscirono dalla città contro a loro cosicché furono presi in mezzo da Israele avendo gli uni di qua e gli altri di là e Israele li batte in modo che non ne rimase né superstite né fuggiasco il re Dai lo presero vivo e lo menarono a Giosuè quando Israele ebbe finito di uccidere tutti gli abitanti di Ai nella campagna e nel deserto dove quelli l'avevano inseguito e tutti furono caduti sotto i colpi della spada finché non ne rimase più tutto Israele tornò verso Ai e la mise a fil di spada tutti quelli che cadero in quel giorno fra uomini e donne furono dodici mila vale a dire tutta la gente Dai Giosuè non ritirò la mano che aveva stessa con la lancia finché non ebbe sterminato tutti gli abitanti d'Ai Israele prese per sé soltanto il bestiame e il bottino di quella città secondo l'ordine che l'Eterno aveva dato a Giosuè Giosuè arse dunque Ai e la ridusse in perpetuo in un mucchio di rovine come è anche oggi quanto al re Dai la piccò a un albero e ve lo lasciò fino a sera ma al tramonto del sole Giosuè ordinò che il cadavere fosse calato dall'albero e lo gittarono all'ingresso della porta della città e gli ammassarono sopra un gran mucchio di pietre che rimane anche al di d'oggi allora Giosuè edificò un altare all'Eterno all'Idio di Israele sul monte Ebal come Mosè servo dell'Eterno aveva ordinato ai figlioli di Israele e come sta scritto nel libro della legge di Mosè un altare di pietre intatte sulle quali nessuno aveva passato ferro e i figlioli di Israele offrirono su di esso gli olocausti all'Eterno e fecero dei sacrifici di azioni di grazie e là su delle pietre Giosuè scrisse una copia della legge che Mosè aveva scritta in presenza dei figlioli di Israele tutto Israele i suoi anziani i suoi ufficiali i suoi giudici stavano in pie ai due lati dell'arca di rinpetto ai sacerdoti levitici che portavano l'arca del patto dell'Eterno gli stranieri come gli israeliti di nascita metà dal lato del monte Garazim metà dal lato del monte Ebal come Mosè servo dell'Eterno aveva da primo ordinato che si benedisse il popolo di Israele dopo questo Giosuè lesse tutte le parole della legge le benedizioni le maledizioni secondo tutto ciò che è scritto nel libro della legge non vi fu parola di tutto quello che Mosè aveva comandato che Gioè non leggesse in presenza di tutta la radunanza di Israele delle donne e dei bambini e degli stranieri che camminavano in mezzo a loro Giosuè capitolo nono or come tutti i re che erano di qua dal Giordano nella contrada montuosa e nella pianura e lungo tutta la costa del mar grande di rimpetto al Libano l'Oitteo l'Amoreo il Cananeo il Ferazeo l'Oiveo e il Gebuseo ebbero udito queste cose si adonaron tutti assieme di comune accordo per muover guerra a Giosuè e ad Israele gli abitanti di Gabaon d'accanto loro quando ebbero udito ciò che Giosuè aveva fatto a Gerico e ad Ai procedettero con astuzia partirono provvisti di viveri caricarono sui loro asini dei sacchi vecchi e dei vecchi oltri di vino rotti ricusciti e si misero ai piedi dei calzari vecchi rappezzati e dei vecchi abiti addosso e tutto il pane di cui si erano provvisti era duro e sbriciolato andarono da Giosuè al campo di Gilgal dissero a lui e alla gente di Israele noi veniamo di paese lontano ordunque fate alleanza con noi la gente di Israele rispose a questi i vei forse voi abitate in mezzo a noi come dunque faremo alleanza con voi ma quelli rispossero a Giosuè noi siamo i tuoi servi e Gesuè a loro chi siete e donde venite e quelli gli rispossero i tuoi servi vengono da un paese molto lontano tratti dalla fama dell'eterno del tuo Dio poiché abbiamo sentito parlare di lui e di tutto quello che ha fatto in Egitto e di tutto quello che ha fatto ai dorei degli Amorei al di là del Giordano a Sion re di Eshbon e a Dog re di Basan che abitava a Astaroth i nostri anziani e tutti gli abitanti del nostro paese ci hanno detto prendete con voi delle provviste per il viaggio andate loro incontro e dite noi siamo vostri servi fate dunque alleanza con noi ecco il nostro pane lo prendemo caldo dalle nostre case come provviste il giorno che partimo per venire da voi ed ora eccolo duro e sbriciolato e questi sono gli otri di Avino che empimo tutti i nuovi ed eccoli rotti e questi i nostri abiti e i nostri calzari che si sono logorati per la grande lunghezza del viaggio allora la gente d'Israele prese dalle loro provviste e non consultò l'Eterno e Giosuè fece pace con loro e fermò con loro un patto per il quale avrebbe lasciato loro la vita e i capi della radunanza lo giurarono loro ma tre giorni dopo che ebbe fermato questo patto seppero che quelli erano loro vicini e abitavano in mezzo a loro poiché i figlioli di Israele partirono e giunsero alle loro città il terzo giorno le loro città erano Gabaon Kefira Berrot Kiriat Geraim ma i figlioli di Israele non li uccisero a motivo del giuramento che i capi della radunanza avevano fatto loro nel nome dell'Eterno dell'Iddio di Israele però tutta la radunanza mormorò contro i capi e tutti i capi dissero all'intera radunanza noi abbiamo uscirato loro nel nome dell'Eterno dell'Iddio di Israele perciò non li possiamo toccare ecco quel che faremo loro li lasceremo in vita per non trarci addosso l'ira dell'Eterno a motivo del giuramento che abbiamo fatto loro i capi dissero dunque essi vivranno ma quelli furono semplici spaccalegna ed acquaioli per tutta la radunanza come i capi avevano loro detto Giosuè dunque richiamò e parò loro così perché ci avete ingannati dicendo stiamo molto lontano da voi mentre abitate in mezzo a noi ordunque siete maledetti e non non cesserete mai di essere schiavi spaccalegna ed acquaioli per la casa del mio Dio e quelli risposero a Giosuè e dissero era stato espressamente riferito ai tuoi servi che il tuo Dio l'Eterno aveva ordinato al suo servo Mosè di darvi tutto il paese e di sterminare dinanzi a voi tutti gli abitanti e noi al vostro appressarvi siamo stati in gran timore per le nostre vite e abbiamo fatto questo ed ora eccoci qui nelle tue mani trattaci come ti par che sia bene e giusto di fare Giosuè li trattò dunque così li liberò dalle mani dei figlioli di Israele perché questi non li uccidessero ma in quel giorno li destinò ad essere spaccalegna ed acquaioli per la radunanza e per l'altare dell'Eterno nel luogo che l'Eterno si sceglierebbe ed è ciò che fanno anche al di d'oggi Giosuè capitolo decimo or quando Adoniz edek re di Gerusalemme odì che Giosuè aveva preso Ai e l'aveva votato allo sterminio che aveva trattato Ai e il suo re nel modo che aveva trattato Gerico e il suo re che gli abitanti di Gabaon avevano fatto pace con gli israeliti ed erano in mezzo a loro fu tutto spaventato perché Gabaon era una grande città come una delle città reali anche più grande di Ai e tutti gli uomini suoi erano valorosi perciò Adoniz edek re di Gerusalemme mandò a dire a Oman re di Ebron e a Piram re di Yarnuth e a Yafia re di Lachis e a Debir re di Eglom salite con me e soccorretemi e noi batteremo Gabaon perché ha fatto la pace con Giosuè e coi figlioli di Israele e i cinque rei degli amorei e il re di Gerusalemme e il re di Ebron e il re di Yarmuth e il re di Lachis e il re di Eglom si radunarono salirono con tutti i loro eserciti e si accamparono di rimpetto a Gabaon e l'attaccarono allora i Gabaoniti mandarono a dire a Giosuè al campo di Gilgal non negare ai tuoi servi il tuo aiuto affrettati a salire da noi liberaci soccorrici perché tutti i re degli amorei che abitano la contrada montuosa si sono radunati contro di noi e Giosuè salì da Gilgal con tutta la gente di guerra e con tutti gli uomini segnalati per valore e l'Eterno disse a Giosuè non li temere perché io li ho dati in poter tuo nessuno di loro potrà starti a fronte e Giosuè piombò loro addosso all'improvviso aveva marciato tutta la notte da Gilgal e l'Eterno li mise in rotta davanti a Israele che fe loro subire una grande sconfitta presso Gabaon e li inseguì per la via che sale a Bet-Oron e li batte fino a Zeca e a Mechedda mentre fuggivano dinanzi a Israele ed erano all'ascesa di Bet-Oron l'Eterno fe cadere dal cielo su loro delle grosse pietre fino ad Zeca ed essi perirono quelli che morirono per le pietre della grandinata furono più numerosi di quelli che i figlioli di Israele uccisero con la spada allora Giosuè parlò all'Eterno il giorno che l'Eterno diede gli amorei in potere dei figlioli di Israele e disse in presenza di Israele sole fermati su Gabaon e tu luna sulla valle d'Ailon e il sole si fermò e la luna rimase al suo luogo finché la nazione si fosse vendicata dei suoi nemici questo non sta scritto nel libro del giusto e il sole si fermò in mezzo al cielo e non si affettò a tramontare per quasi un giorno intero e mai né prima né poi si è dato un giorno simile a quello nel quale l'Eterno abbia esaudito la voce di un uomo poiché l'Eterno combatteva per Israele e Giosuè con tutto Israele tornò al campo di Gilgal or i cinque re erano fuggiti e si erano nascosti nella spelonca di Maccheda la cosa fu riferita a Giosuè e gli fu detto i cinque re sono stati trovati nascosti nella spelonca di Maccheda allora Giosuè disse rotolate delle grosse pietre sull'imboccatura della spelonca e ponetevi degli uomini per far loro la guardia ma voi non vi fermate inseguite i vostri nemici e colpite le retroguardie non li lasciate entrare nelle loro città perché l'Eterno il vostro Dio li ha dati in poter vostro e quando Giosuè e i figlioli di Israele ebbero finito di infliggere loro una grande completa disfatta e quelli che scamparono si furono rifugiati nelle città fortificate tutto il popolo tornò tranquillamente a Giosuè al campo di Maccheda senza che alcuno osasse fiatare contro i figlioli di Israele allora Giosuè disse aprite l'imboccatura della caverna e traete fuori quei cinque re e menatemi lì a me quelli fecero così trassero dalla spelonca quei cinque re il re di Gerusalemme il re di Ebron il re di Yarmut il re di Lachis e il re di Eglon e li condussero e quando ebbero tratti dalla spelonca e condotti a Giosuè quei re Giosuè chiamò tutti gli abitanti di Israele e disse ai capi della gente di guerra che era andata con lui accostatevi mettete il piede sul collo di questi re quelli si accostarono e misero loro il piede sul collo e Giosuè disse loro non temete non vi sgomentate siate forti e fatevi animo poiché così farà l'Eterno a tutti i vostri nemici contro i quali avete a combattere dopo ciò Giosuè li percosse e li fece morire quindi li appiccò a cinque alberi e quelli rimasero appiccati gli alberi fino alla sera e sul tramontare del sole Giosuè ordinò che fossero calati dagli alberi gettati nella spelonca dove s'erano nascosti e che all'imboccatura della caverna fossero messe delle grosse pietre le quali vi sono rimaste fino al di d'oggi e in quel medesimo giorno Giosuè prese Machedda e fece passare a fil di spada la città il suo re li votò allo sterminio con tutte le persone che vi si trovavano non ne lasciò scampare una e trattò il re di Machedda come aveva trattato il re di Gerico poi Giosuè con tutto Israele passò da Machedda all'ibna e l'attaccò e l'Eterno diede anche quella col suo re nelle mani di Israele e Giosuè la mise a fil di spada con tutte le persone che si ritrovavano non ne lasciò scampare una e trattò il re d'essa come aveva trattato il re di Gerico poi Giosuè con tutto Israele passò da Libna all'Achis si accampò dell'impetta a quella e l'attaccò e l'Eterno diede l'Achis nelle mani di Israele che la presse il secondo giorno e la mise a fil di spada con tutte le persone che si trovavano esattamente come aveva fatto a Libna allora Oram il re di Gesar salì in soccorso di L'Achis ma Giosuè battè lui e il suo popolo così da non lasciare scampo ad alcuno poi Giosuè con tutto Israele passò da L'Achis ad Eglon si accamparono dell'impetta a questa e l'attaccarono la presero quel medesimo giorno e la mise a fil di spada e in quel giorno Giosuè votò allo sterminio tutte le persone che vi si trovavano esattamente come aveva fatto a L'Achis poi Giosuè con tutto Israele salì da Eglon a Ebron e si accamparono la presero la misero a fil di spada assieme col suo re con tutte le sue città con tutte le persone che vi si trovavano non ne lasciò sfuggire una esattamente come aveva fatto ad Eglon la votò allo sterminio con tutte le persone che vi si trovavano poi Giosuè con tutto Israele tornò verso Debir e l'attaccò la prese col suo re con tutte le sue città la misero a fil di spada e votarono allo sterminio tutte le persone che vi si trovavano senza che ne scappasse una egli trattò Debir e il suo re come aveva trattato Ebron come aveva trattato Libna e il suo re Giosuè prese ad una volta tutti quei re e i loro paesi perché l'Eterno lì Dio di Israele combatteva per Israele poi Giosuè con tutto Israele fece ritorno al campo di Gilgal Giosuè capitolo undicesimo Or come Yabin re di Azzor ebbe udito queste cose mandò dei messi a Jobab re di Madom al re di Shimron al re di Aksaf ai re che erano al nord della contrada montuosa nella pianura al sud di Chineret nella regione bassa e sulle alture di Dor a Ponente ai Cananei d'Oriente e di Ponente agli Amorei agli Ittei ai Ferasei ai Gebusei nella contrada montuosa e agli Ivei a piede lo Ermo nel paese di Mizpah e quelli uscirono con tutti i loro eserciti formando un popolo innumerevole come l'arena che è sul lido del mare e con cavalli e carri in grandissima quantità tutti questi re si riunirono e vennero ad accamparsi assieme presso le acque di Merom per combattere contro Israele e l'Eterno disse a Giosuè non li temere perché domani a quest'ora io farò che saranno tutti uccisi davanti a Israele e tutto taglierai i garretti a loro cavalli e dare fuoco ai loro carri Giosuè dunque con tutta la sua gente di guerra marciò all'improvviso contro di essi alle acque di Merom e piombò loro addosso e l'Eterno li diede nelle mani degli israeliti i quali li batterono e li inseguirono fino a Sidone la grande fino a Mistre Fot Maim e fino alla valle di Mizpah verso oriente li batteron così da non lasciarne scampare uno e Giosuè ritrattò come gli aveva detto l'Eterno e tagliò i garretti ai loro cavalli ed edde fuoco ai loro carri al suo ritorno in quel medesimo tempo Giosuè prese Azzor e ne fece perire di spada il re poiché Azzor era stata per là dietro la capitale di tutti quei regni mise anche a fil di spada tutte le persone che vi si trovavano votandole allo sterminio e non vi restò anima viva e dette Azzor alle fiamme Giosuè prese pure tutte le città di quei re e tutti i loro re li mise a fil di spada e li votò allo sterminio come aveva ordinato Mosè servo dell'Eterno ma Israele non arse alcuna delle città poste in collina salvo che Azzor la sola che Giosuè incendiasse e i figlioli di Israele si tennero per sé tutto il bottino di quelle città e il bestiame ma misero a fil di spada tutti gli uomini fino al loro completo sterminio senza lasciare anima viva come l'Eterno aveva comandato a Mosè suo servo così Mosè ordinò a Giosuè e così fece Giosuè il quale non trascurò alcuno degli ordini dell'Eterno che aveva dato a Mosè Giosuè Giosuè dunque prese tutto quel paese la contrada montuosa tutto il mezzogiorno tutto il paese di Goshen la regione bassa la pianura la contrada montuosa di Israele e le sue regioni basse dalla montagna Brulla che se leva verso Seir fino a Balgad alla valle del Libano a piede del monte Ermo prese tutti loro re li colpì e li mise a morte Giosuè fece per lungo tempo guerra a tutti quei re non ci fu città che facesse pace coi figlioli di Israele eccetto gli vei che abitavano a Gabaon le presero tutte combattendo poiché l'Eterno faceva sì che il loro cuore si ostinasse a dar battaglia ad Israele onde Israele si voltasse e li mettesse allo sterminio senza che ci fosse pietà per loro e li distruggesse come l'Eterno aveva comandato a Mosè in quel medesimo tempo Giosuè si mise in marcia e sterminò gli anachiti della contrada montuosa di Ebron di Debir di Anab e di tutta la contrada montuosa di Giuda e di tutta la contrada montuosa di Israele Giosuè li votò allo sterminio con le loro città non rimasero più anachiti nel paese dei figlioli di Israele non ne restarono che alcuni in Gaza a Gath e in Asadot Giosuè dunque prese tutto il paese esattamente come l'Eterno aveva detto a Mosè e Giosuè lo diede in eredità ad Israele tribù per tribù secondo la parte che toccava ciascuna e il paese ebbe requie dalla guerra Giosuè capitolo dodicesimo ora questi sono i re del paese battuti dai figlioli di Israele i quali presero possesso del loro territorio di là dal Giordano verso Levante dalla valle del Nannon fino al monte Ermon con tutta la pianura orientale Sion re degli Amorei che abitava a Eshbon e dominava la Aroer che è sull'orlo della valle dell'Arnon e dalla metà della valle alla metà di Galad fino al torrente Jabok confine dei figlioli di Amon sulla pianura fino al mare a Kineret verso oriente e fino al mare della pianura che è il mare salato a oriente verso Bet Jeshimot e dal lato di Mezzogiorno fino a piede alle pendici del Pisga poi il territorio di Og re di Basan uno dei superstiti di Raffain che abitava ad Astaroth e a Edrei e dominava dal monte Ermon su Salga su tutto Basan sino ai confini dei Gesuriti e dei Maacatiti e sulla metà di Galad confine di Sion re di Eshbon Mosè servo dell'Eterno e figlioli di Israele li batterono e Mosè servo dell'Eterno diede il loro paese come possesso ai Rubeniti e ai Gaditi e a mezza la tribù di Menasse ed ecco i re del paese che Giosuè e i figlioli di Israele batterono di qua dal Giordano a occidente da Balgad nella valle del Libano fino alla montagna Abrulla che si eleva verso Seir paese che Giosuè diede in possesso alle tribù di Israele secondo la parte che toccava ciascuna nella contrada montuosa nella regione bassa nella pianura sulle pendici nel deserto e nel mezzogiorno il paese degli Ittei degli Amorei dei Cananei dei Ferasei degli Ivei e dei Gevusei il re di Gerico il re di Gerico il re di Ai vicino a Bete il re di Gerusalemme il re di Ebron il re di Yarmut il re di Lacis e il re di Eglon e il re di Gesa il re di Debir e il re di Geder il re di Orma il re di Arad e il re di Libna il re di Adulam e il re di Makeda e il re di Beto e il re di Tapua e il re di Esper e il re di Efek e il re di Sharon e il re di Madon e il re di Atzor e il re di Shîmromeron e il re di Axaf e il re di Tanach e il re di Megiddo e il re di Cades e il re di Iocaneam a Carmelo e il re di Dor sulle alture di Dor, e il re di Goin, nel Gilgal, e il re di Tirsa, in tutto trent'un re. Giosuè capitolo tredicesimo O Giosuè era vecchio, ben avanti negli anni, e l'Eterno gli disse, tu sei vecchio, ben avanti negli anni, e rimane ancora una grandissima parte del paese da conquistare. Ecco quel che rimane. Tutti i distretti dei Filistei, e tutto il territorio dei Gesuriti, dallo Shior, che scorre a oriente dell'Egitto, sine al confino di Ekron a Settentrione, regione, che va ritenuta come Cananea, e che appartiene ai cinque principi dei Filistei, a quello di Gaza, a quello di Asdod, a quello di Ascalon, a quello di Gath, a quello di Ekron, e anche agli Avei a Mezzogiorno. Tutto il paese dei Cananei, e Meara, che è dei Sidoni, sino a Fe, sino al confine degli Amorei. Il paese dei Gibiliti, e tutto il Libano, verso il Levante, da Baal-Gath, a piede al monte Hermon, fino all'ingresso di Amat. Tutti gli abitanti della contrada montuosa del Libano, fino a Misrefot Maim, tutti i Sidoni. Io li caccerò dinanzi ai figlioli d'Israele, e tu spartisci pure a sorte l'eredità di questo paese tra gli israeliti, nel modo che io t'ho comandato. Ordunque, spartisci l'eredità di questo paese fra nove tribù e la mezza tribù di Manasse. I Rubiniti e i Gaditi, con l'altra metà della tribù di Manasse, hanno ricevuto la loro eredità che Mosè, servo dell'Eterno, diede loro di là dal Giordano a Oriente. Da Aroer, sull'orlo della valle di Arnon, e dalla città che è in mezzo alla valle, tutto l'altipiano di Medeba, fino a Dibon. Tutte le città di Sion, re degli Amorei, che regnava a Eshbon, fino al confine dei figlioli di Amon. Galad, il territorio dei Gesuriti e dei Maacatiti, tutto il monte Hermon e tutto Basan fino a Salca, tutto il regno di Og in Basan, che regnava in Astaroth, e Aedrei, ultimo superstite, dei Refaim. Mosè sconfisse questi re e li cacciò. Ma i figlioli di Israele non cacciarono i Gesuriti e i Maacatiti, e Gesur e Maacat abitano in mezzo ad Israele fino al dito oggi. Solo alla tribù di Levi Mosè non diede alcuna eredità. I sacrifici offerti mediante il fuoco all'Eterno, all'Edio di Israele, sono la sua eredità, come egli disse. Mosè dunque diede alla tribù dei figlioli di Ruben, la loro parte secondo le loro famiglie, Ed essi ebbero per territorio partendo da Aroer sull'orlo della valle dell'Arno, e dalla città che è in mezzo alla valle, tutto l'altipiano presso Medeba, Aspon e tutte le sue città che sono sull'altipiano, Dibom, Bamot, Bal, Betbal, Meom, Iatz, Kedesh-Mot e Mefaat, Kiryatain, Sibna, Teseret, Ashalar, sul monte della valle, Bet-Peor, l'ependici del Pisgah, e Bet-Yeshimot, tutte le città dell'altipiano, tutto il regno di Sion, re degli Amorei, che regnava a Eshpon, quello che Mosè sconfisse con i principi di Madiam, Evi, Rechen, Sur, Hur e Reba, principi vassali di Sion, che abitavano il paese. I figlioli di Israele fecero morire di spada, anche Balaam, figliolo di Beor, l'Indovino, insieme con gli altri che uccisero. Al territorio dei figlioli di Ruben serviva di confine il Giordano. Tale fu l'eredità dei figlioli di Ruben secondo le loro famiglie con le città e i villaggi annessi. Mosè diede pure alla tribù di Gad, ai figlioli di Gad e la loro parte, secondo le loro famiglie. Essi ebbero per territorio Iazer, tutte le città di Galahad, la metà del paese dei figlioli di Amon, fino ad Aroer, che è di rimpetto a Rabba. Da Esbon fino a Ramat-Mitzpeh e Batohim, da Ma'anaim fino al confine di Debir e nella valle Bet-Aram, Bet-Nimra, Sukol, Safon, residuo del regno di Sion, re di Esbon, avendo il Giordano per confine, sino all'estremità del mare di Kineret, di là dal Giordano a Oriente. Tale fu l'eredità dei figlioli di Gad secondo le loro famiglie con le città e i villaggi annessi. Mosè diede pure alla mezza tribù di Menasse, ai figlioli di Menasse, la loro parte secondo le loro famiglie. Il loro territorio comprendeva da Ma'anaim tutto Basam, tutto il regno di Ogre di Basam, tutti i borghi di Jairin in Basam, in tutto sessanta terre. La metà di Galahad, Astaroth e Edrei, città del regno di Og in Basam, toccarono i figlioli di Machir, figlioli di Menasse, alla metà dei figlioli di Machir, secondo le loro famiglie. Tali sono le parti che Mosè fece quando era nelle pianure di Moab di là da Giordano di rimpetto a Gerico a Oriente. Ma alla tribù di Levi, Mosè non dette alcuna eredità. L'Eterno, l'Edio di Israele, è la sua eredità come ei le disse. Giosuè capitolo quattordicesimo Or queste sono le terre che i figlioli di Israele ebbero come eredità nel paese di Canaan, e che il sacerdote Eleazar, Giosuè figliolo di Nun e Capi, famiglia delle tribù dei figlioli di Israele, distribuirono loro. L'eredità fu distribuita a sorte, come l'Eterno aveva comandato per mezzo di Mosè, alle nove tribù e alla mezza tribù, perché le altre due tribù e alla metà tribù, Mosè aveva dato la loro eredità al di là dal Giordano, mentre ai Leviti non aveva dato, tra i figlioli di Israele, alcune eredità, perché i figlioli di Giuseppe formavano due tribù, Menasse ed Efraim. E ai Leviti non fu data alcuna parte nel paese, tranne delle città per abitarvi coloro dintorni per il loro bestiame e i loro averi. I figlioli di Israele fecero come l'Eterno aveva comandato a Mosè, e spartirono il paese. Ora i figlioli di Giuda s'accostarono a Giosuè a Gilgal, e Caleb figliolo di Ghefunne il Keniseo gli disse, Tu sai quel che l'Eterno disse a Mosè, uomo di Dio, riguardo a me e a te, a Cades Barnea. Io avevo quarant'anni quando Mosè, servo dell'Eterno, mi mandò da Cades Barnea ad esplorare il paese, e io gli feci la mia relazione con sincerità di cuore. Ma i miei fratelli, che erano saliti con me, scoraggiarono il popolo, mentre io seguì pienamente l'Eterno, il mio Dio. Ed ora ecco, l'Eterno mi ha conservato in vita, come aveva detto durante quarant'anni ormai trascorsi da che l'Eterno disse quella parola a Mosè quando Israele viaggiava nel deserto. Ed ora ecco che ho ottantacinque anni, sono oggi ancora robusto come era il giorno che Mosè mi mandò, le mie forze sono le stesse da allora, tanto per combattere quanto per andare e venire. Or dunque dammi questo monte del quale l'Eterno parlò quel giorno, perché tu udisti allora che vi stavano degli Anachin, e che vi sono delle città grandi e fortificate. Forse l'Eterno sarà meco, e io li caccerò come disse l'Eterno. E allora Giosuè lo benedisse, e dette Ebron come eredità a Caleb figliolo di Ghefunne. Per questo Caleb figliolo di Ghefunne, il Keniseo, ha avuto Ebron come eredità fino al di d'oggi, perché aveva pienamente eseguito l'Eterno, il Dio di Israele. Ora Ebron si chiamava per addietro Kiriat Arba. Arba era stato l'uomo più grande fra i figlioli di Anachin, e il paese ebbe recue dalla guerra. Giosuè capitolo quindicesimo Or la parte toccata a sorte alla tribù dei figlioli di Giuda, secondo le loro famiglie, si estendeva sino al confine di Edom, al deserto di Zin verso sud, all'estremità meridionale di Canam. Il loro confine meridionale partiva dall'estremità del mar Salato, dalla lingua che vogge a sud, e si prolungava al sud della salita di Akrabin, passava per Zin, poi saliva al sud di Cades Barnea, passava da Azzeron, saliva verso Adar, e si volgeva verso Karar. Passava quindi da Azzmon, e continuava fino al torrente d'Egitto per far capo al mare. Questo sarà, disse Giosuè, il vostro confine meridionale. Il confine orientale era il mare Salato, sino alla foce del Giordano. Il confine settentrionale partiva dal braccio di mare, dove è la foce del Giordano, e di là saliva verso Bet Ogla, passava al nord di Bet Araba, saliva fino al sasso di Boa, figliolo di Ruben, poi, partendo dalla valle di Acor, saliva a Debir, e si dirigeva verso il nord dal lato di Gilgal, che è di rimpetto alla salita di Adumim, a sud del torrente, poi passava presso le acque di Enshemesh, e faceva capo a Enrogel. Di là il confine saliva per la valle di Ben-Hinnom, fino al versante meridionale del monte dei Gebusei, che è Gerusalemme, poi si elevava fino al sommo del monte, che è di rimpetto alla valle di Inom, a occidente, e all'estremità della valle di Refaim, al nord. Dal sommo del monte il confine si estendeva fino alla sorgente delle acque di Naftoat, continuava verso le città del monte Efron, e si prolungava fino a Bala, che è Kiriet-Yarim. Da Balat volgeva poi a occidente verso la montagna di Seir, passava per il versante settentrionale del monte Yarim, che è Kes-Lom, e scendeva a Bet-Shemesh, e passava per Timna. Di là il confine continuava verso il lato settentrionale di Es-Krom, si estendeva verso Shik-Krom, passava per il monte Bala, si prolungava fino a Iab-Nel, e faceva capo al mare. Il confine occidentale era il Mar Grande. Tali furono da tutti i lati i confini dei figlioli di Giuda secondo le loro famiglie. A Caleb, figliolo di Ghefunne, Giosuè dette una parte in mezzo ai figlioli di Giuda, come l'Eterno gli aveva comandato, cioè la città di Arba, padre di Anak, la quale è Ebrom. E Caleb ne cacciò i tre figlioli di Anak, Sheshai, Aiman, Talmai, discendenti di Anak. Di là salì contro gli abitanti di Debir, che prima si chiamava Kiriats-Efer, e Caleb disse, A chi batterà Kiriats-Efer e la prenderò, io darò in moglie Aksa, mia figliola. Allora Ot-Niel, figliolo di Kenas, fratello di Caleb, la prese, e Caleb gli diede in moglie Aksa, sua figliola. E quando ella venne a star con lui, persuase Ot-Niel a chiedere un campo a Caleb suo padre. Essa scese di sull'asino, e Caleb le disse, che vuoi? E quella rispose, fammi un dono, già che tu mi hai stabilito in una terra arrida, dammi anche le sorgenti dell'acqua, ed egli le donò le sorgenti superiori e le sorgenti sottostanti. Questa è l'eredità della tribù dei figlioli di Giuda secondo le loro famiglie. Le città, poste all'estremità della tribù dei figlioli di Giuda, verso i confini di Edom dal lato del Mezzogiorno, erano Cap-Zil, ed er, jagur, kina, dimona, adeada, kades, atzor, itnam, zif, talen, behalot, atzaror adada, Kerriot etzor, aman, shema, molada, atzar gadda, esmon, bet palet, atzar shual, bershiba, bizziota, baala, tim, atzem, et lo lad, kasin, ordma. Sidlag, madmanna, sansanna, lebaot, shimbling, ain, rimon, in tutto ventinove città e loro villaggi. Nella regione bassa, estaol, sorea, ashna, zanaom, enganin, tapua, enam, irmut, adulam, soko, adzeka, shaaraim, abitam, gedera, gera, dotam, quattordici città e loro villaggi. Tseman, adasha, migdar gad, dilean, mitzpe, yoktel, lakis, botzakat, eglon, kabon, lamas, kitlish, gedorot, bet dagon, naama, e makedda, sedisi città e loro villaggi. Libna, eder, ashan, ifat, ashna, netzib, keila, achzib, meresha, nove città e loro villaggi. Ekron, le città del suo territorio e i suoi villaggi. Da Ekron e a occidente, tutte le città vicine a Asdot e i loro villaggi. Asdot, le città del suo territorio e i suoi villaggi. Gaza, le città del suo territorio e i suoi villaggi. Fino al torrente d'Egitto e al Mar Grande, che serve da confine. Nella contrada montuosa. Nove città e loro villaggi. Maon, Carmel, Zif, Juta, Iitril, Jogdem, Zanoat, Caim, Gibea, Timna, dieci città e loro villaggi. Hal-Hul, Bet-Sur, Gedor, Ma'arat, Bet-Anoth e El-Tekon, sei città e loro villaggi. Kiriat Baal, che è Kiriat Iarim, e Rabba, due città e loro villaggi. Nel deserto, Bet-Araba, Midim-Sekar, Nishan, Ir-Ameelat e Gadi, sei città e loro villaggi. Quanto ai Gebusei, che abitavano in Gerusalemme, i figlioli di Giuda non li poterono cacciare. I Gebusei hanno abitato con figliola di Giuda in Gerusalemme fino al di d'oggi. Giosuè, capitolo sedicesimo La parte toccata a sorte ai figlioli di Giuseppe si estendeva dal Giordano presso Gerico, verso le acque di Gerico a Oriente, seguendo il deserto che sale da Gerico a Betol per la contrada montuosa. Il confine continuava poi da Betol a Luz e passava per la frontiera degli Archei a Ataroth e scendeva ad occidente verso il confine dei Giafletei, fino al confine di Bet-Oron di sotto, fino a Gezer, e faceva capo al mare. I figlioli di Giuseppe, Menasse ed Efraim ebbero ciascuno la loro eredità. Or questi furono i confini dei figlioli di Efraim, secondo le loro famiglie. Il confine della loro eredità era a Oriente, Ataroth a Dar, fino a Bet-Oron di sopra. Continuava dal lato di Occidente verso Mik-Metath, al nord, e girava a Oriente verso Tanat-Silo, e le passava davanti a Oriente di Ianaoc. Poi da Ianoah scendeva ad Ataroth e a Naharat, toccava Gerico, e faceva capo al Giordano. Da Tapua il confine andava verso Occidente, fino al torrente di Cana, per far capo al mare. Tale fu l'eredità della tribù dei figlioli di Efraim, secondo le loro famiglie, con l'aggiunta delle città, tutte le città e loro villaggi, messe a parte per i figlioli di Efraim, in mezzo all'eredità dei figlioli di Menasse. Or essi non cacciarono i Cananei che abitavano a Gesa, e i Cananei hanno dimorato in mezzo ad Efraim fino al di Dogi, ma sono stati soggetti a servitù. Giosuè, capitolo dicesettesimo Questa fu la parte toccata a sorte alla tribù di Menasse, perché egli era il primogenito di Giuseppe. Quanto a Makir, primogenito di Menasse, e padre di Galad, siccome era un uomo di guerra, aveva avuto Galad e Baasam. Fu dunque data a sorte una parte agli altri figlioli di Menasse, secondo le loro famiglie, ai figlioli di Abieser, e ai figlioli di Elek, e ai figlioli di Atrier, e ai figlioli di Siken, e ai figlioli di Efer, e ai figlioli di Shemida. Questi sono i figlioli maschi di Menasse, figliolo di Giuseppe, e secondo le loro famiglie. Or, se lo Fehad, figliolo di Efer, figliolo di Gala, figliolo di Makir, figliolo di Menasse, non ebbe figlioli, ma ebbe delle figliole, delle quali ecco i nomi, Malahat, Noah, Oglar, Milca, e Tirzah. Questi si presentarono davanti al sacerdote Eleazar, davanti a Giosuè, figliolo di Num, e davanti ai principi, dicendo, L'Eterno comandò a Mosè di darci un'eredità in mezzo ai nostri fratelli. E Giosuè diede loro in eredità in mezzo ai fratelli del Padre loro, conformemente all'ordine dell'Eterno. Toccaron così dieci parti a Menasse, oltre il paese di Gala e di Basan, che è di là da Giordano, poiché le figlioli di Menasse ebbero un'eredità in mezzo ai figlioli di lui, e il paese di Gala fu per gli altri figlioli di Menasse. Il confine di Menasse si estendeva da Asher a Mikmetat, che è di rimpetto a Sichem, e andava a mandestra verso gli abitanti di Entapuat. Il paese di Tapuat appartenne a Menasse, ma Tapuat sul confine di Menasse appartenne ai figlioli di Efraim. Poi il confine scendeva al torrente di Cana, a sud del torrente, presso le città che appartenevano a Efraim, in mezzo alle città di Menasse, ma il confine di Menasse era dal lato nord del torrente, e faceva capo al mare. Ciò che era a mezzogiorno apparteneva a Efraim, ciò che era a settentrione apparteneva a Menasse, e il mare era il loro confine. A settentrione confinavano con Asher, e a oriente con Isakar. Di più, Menasse ebbe, in quel di Zakar e in quel di Asher, Bet Shean con i suoi villaggi, Ibleam e i suoi villaggi, gli abitanti di Dor con i suoi villaggi, gli abitanti di Endor con i suoi villaggi, gli abitanti di Tanaac con i suoi villaggi, gli abitanti di Meghido con i suoi villaggi, vale a dire tre regioni elevate. Ora, i figlioli di Menasse non poterono impadronirsi di quelle città. I cananei erano decisi a restare in quel paese, però, quando i figlioli di Israele si furono rinforzati, assoggettarono i cananei a servitù, ma non li cacciarono del tutto. Ora, i figlioli di Giuseppe parlarono a Giosuè e gli dissero, «Perché ci ha dato come eredità un solo lotto, una parte sola, mentre siamo un gran popolo, che l'Eterno ha così tanto benedetto?» E Giosuè disse loro, «Se siete un popolo numeroso, salite alla foresta, dissodatela per farvi del posto nel paese dei Faresei e dei Raffaim, giacché la contrada montuosa di Efraim è troppo stretta per voi». Ma i figlioli di Giuseppe risposero, «Quella contrada montuosa non ci basta, e quanto alla contrada in pianura, tutti i cananei che l'abitano hanno dei carri di ferro, tanto quelli che stanno a Bethshean e nei suoi villaggi, quanto quelli che stanno nella valle di Israel». Allora Giosuè parlò alla casa di Giuseppe, a Efraim e a Menasse, e disse loro, «Voi siete un popolo numeroso, e avete una gran forza, non avrete una parte sola, ma vostra sarà la contrada montuosa, e siccome una foresta la dissoderete, e sarà vostra in tutta la sua distesa, perché voi caccerete i cananei, benché abbiano dei carri di ferro, e benché siano potenti». Giosuè, capitolo diciottesimo Poi tutta la radunanza dei figlioli di Israele s'adunò a Shilot, e qui vi rizzarono la tenda di convegno, il paese era loro sottomesso. Ora rimanevano tra i figlioli di Israele sette tribù che non avevano ricevuto la loro eredità, e Giosuè disse ai figlioli di Israele, «Fino a quando vi mostrerete lenti ad andare a prendere possesso del paese che l'Eterno, l'Idio dei vostri padri, va dato? Sceglietevi tre uomini per tribù, e io li manderò. Essi si levaranno e percorreranno il paese, e ne faranno la descrizione in vista della partizione, poi torneranno da me. Essi lo divideranno in sette parti, Giuda rimarrà nei suoi confini a mezzogiorno, e la casa di Giuseppe rimarrà nei suoi confini a settenzione. Voi farete dunque la descrizione del paese, dividendolo in sette parti, me la porterete qui, e io ve le tirerò a sorte qui davanti all'Eterno, al nostro Dio. I leviti non debbono aver parte di sorta in mezzo a voi, giacché il sacerdozio dell'Eterno è la parte loro, e Gad, Ruben e la mezza tribù di Menasse hanno già ricevuto al di là del Giordano, a Oriente, l'eredità di Mosè, servo dell'Eterno che ha data loro. Quegli uomini dunque si levarono e partirono, e a loro che andavano a fare la descrizione del paese, Gesù diede quest'ordine, andate, percorrete il paese, fatene la descrizione, poi tornate da me, e io vi tirerò a sorte le parti qui davanti all'Eterno, a Scilo. E quegli uomini andarono, percorsero il paese, e ne fecero in un libro la descrizione per città, dividendolo in sette parti, poi tornarono da Giosuè al campo di Scilo. Allora Giosuè trasse loro a sorte le parti di Scilo davanti all'Eterno, e qui vi spartì il paese tra i figlioli di Israele, assegnando a ciascuno la sua parte. Fu tirata a sorte la parte della tribù dei figlioli di Beniamino, secondo le loro famiglie, e la parte che coloro aveva i suoi confini, tra i figlioli di Giuda e i figlioli di Giuseppe, dal lato di Settentrione, il loro confine partiva dal Giordano, risaliva il versante di Gerico al nord, saliva per la contrada montuosa verso l'Occidente, e faceva capo al deserto di Beth-Aven. Di là passava per Luz, sul versante meridionale di Luz, che è ora Beto, e scendeva a Ataroth-Adar, presso il monte che è a mezzogiorno di Beth-Oron di sotto. Poi il confine si prolungava, e dal lato occidentale girava a mezzogiorno dal monte posto di faccia a Beth-Oron, e faceva capo a Kiriat-Bal, che è Kiriat-Yarim, città dei figlioli di Giuda. Questo era il lato occidentale. Il lato di mezzogiorno cominciava all'estremità di Kiriat-Yarim, il confine si prolungava verso l'Occidente, fino alla sorgente delle acque di Nef-Toat, e poi scendeva all'estremità del monte, presso di faccia alla valle di Ben-Inom, che è nella vallata di Refaim al nord, e scendeva per la valle di Inom, sul versante meridionale dei Gebusei, fino a En-Rogel. Si estendeva quindi verso il nord, e giungeva a En-Shemesh. Di là si dirigeva verso Gileloth, che è di rimpetto alla salita da Adumim, e scendeva al sasso di Boam, figliuolo di Rubem. Poi passava per il versante setenzionale di Faccia a Rabba, e scendeva a Rabba. Il confine passava quindi per il versante setenzionale di Bet-Ogla, e faceva capo al braccio nord del mar Salato, all'estremità meridionale del Giordano. Questo era il confine meridionale. Il Giordano serviva di confine al lato orientale. Tale fu l'eredità dei figlioli di Beniamino, secondo le loro famiglie, coi suoi confini, da tutti i lati. Le città delle tribù dei figlioli di Beniamino, secondo le loro famiglie, furono Gerico, Bet-Ogla, Emek, Ketsit, Bet-Arabak, Semarim, Beto, Avim, Pera, Ofra, Kephar, Ammonai, Ofni e Geba, dodici città e loro villaggi, Gabaon, Rama, Berot, Mitzpe, Kaffira, Mozza, Rechen, Irpeel, Tarra, Reala, Tsela, Elef, Gebusche, Gerusalemme, Gibea e Kiriat, quattordici città e loro villaggi. Tale fu l'eredità dei figlioli di Beniamino, secondo le loro famiglie. Giosuè, capitolo diciannovesimo La seconda parte tirata a sorte toccò a Simeone, alla tribù dei figlioli di Simeone, secondo le loro famiglie. La loro eredità era in mezzo all'eredità dei figlioli di Giuda. Ebbero nella loro eredità Bershiba, Sheba, Molada, Azur, Shual, Bala, Azzem, El-Tolad, Betul, Horma, Ziklag, Bet, Mareoboth, Azar, Susa, Bet, Lebaoth e Sharukem, Tredici città e loro villaggi, Ahim, Rimond, Eter, Ashan, quattro città e loro villaggi, e tutti i villaggi che stavano attorno a queste città fino a Balatber, che è la rama del sud. Tale fu l'eredità della tribù dei figlioli di Simeone, secondo le loro famiglie. L'eredità dei figlioli di Simeone fu tolta dalla parte dei figlioli di Giuda, perché la parte dei figlioli di Giuda era troppo grande per loro, onde che i figlioli di Simeone ebbero la loro eredità in mezzo all'eredità di quelli. La terza parte, tirata a sorte, toccò ai figlioli di Zabulon, secondo le loro famiglie. Il confine della loro eredità si estendeva fino a Sarid. Questo confine saliva occidente, verso Maraela, e giungeva ad Ableshet e poi al torrente che scorre di faccia a Ioceneam. Da Sarid girava ad oriente verso il Sollevante, sino al confine di Chislot-Tabor, poi continuava verso Debrath e saliva a Japhia. Di là passava oriente per Ghet-Efer, per Et-Katzin, e continuava verso Rimmon, prolungandosi fino a Nea. Poi il confine girava, dal lato di Settentrione, verso Anathot, e faceva capo alla valle di Fat-Hel. Esso includeva inoltre Katat, Nahalal, Shimron, Ideala, Beth, Yelem, dodici città e i loro villaggi. Tale fu l'eredità dei figlioli di Zabulon, secondo le loro famiglie, quelle città e i loro villaggi. La quarta parte tirata a sorte toccò a Issachar, ai figlioli di Issachar, secondo le loro famiglie. Il loro territorio comprendeva Izrael, Chesulot, Sunem, Afarim, Shion, Anarat, Rabit, Kishon, e Beth, Remet, Enganim, Enhadda, Beth, Pazet. Poi il confine giungeva a Tabor, Sha'ashim, e Beth Shemesh, e faceva capo al Giordano, sedici città e i loro villaggi. Tale fu l'eredità della tribù dei figlioli di Issachar, secondo le loro famiglie, quelle città e i loro villaggi. La quinta parte tirata a sorte toccò ai figlioli di Asher, secondo le loro famiglie. Il loro territorio comprendeva El Khat, Hali, Beten, Aksaf, Alamelek, Ahmad, Michel, e il loro confine giungeva verso Occidente, Al-Karmel, e a Shior-Libnath. Poi girava dal lato del sollevante verso Beth Dagon, giungeva a Zabulon, e alla valle di Ital-El, al nord di Beth Emek, e di Neiel. Si prolungava verso Kabul a sinistra, e verso Ebron-Kehob, Imon-Kana, fino a Sidon la Grande. Poi il confine girava verso Rama, fino alla città forte di Tiro, giungeva verso Osea, e faceva capo al mare del lato del territorio di Akrib. Esse lo includeva inoltre in Mat-Efec e Hob, ventidue città e i loro villaggi. Tale fu l'eredità della tribù dei figlioli di Asher, secondo le loro famiglie, queste città e i loro villaggi. La sesta parte, tirata a sorte, toccò ai figlioli di Neftali, secondo le loro famiglie. Il loro confine si estendeva da Elef, da Elom-Ba-Azanim, Adami-Nekeb, Ibn-El, fino a Akum, e faceva capo al Giordano. Poi il confine girava occidente verso Adnot-Tabor, e di lì continuava verso Ukok, giungeva Sabolon dal lato di Mezzogiorno, e a Asher dal lato d'Occidente, e a Giuda del Giordano dal lato di Levante. Le città forti erano Sidin, Zer, Amat, Kalkat, Kinaret, Adam, Rana, Katzor, Kades, Edrei, En-Azor, Ireon, Migdar-El, Horem, Bet-Anat e Bet-Shimesh. Diciannove città e i loro villaggi. Tale fu l'eredità della tribù dei figlioli di Neftali, secondo le loro famiglie, queste città e i loro villaggi. La settima parte, tirata a sorte, toccò alla tribù dei figlioli di Dan, secondo le loro famiglie. Il confine della loro eredità comprendeva Zorea, Eshtahol, Ir-Shemesh, Shash-Labin, Aialon, Itla, Elon, Timnat, Ekron, El-Teke, Ghibleton, Ba'alat, Yehud, Bene-Berak, Gat-Rimon, Me-Iarkon e Rakon, col territorio di rimpetua Jafo. Ora, il territorio dei figlioli di Dan se stesse più lungi, poiché i figlioli di Dan salirono a combattere contro Lashem, la presero e la misero a fil di spada, ne presero possesso e vi si stabilirono, e la chiamarono Lashem-Dan dal nome di Dan loro padre. Tale fu l'eredità della tribù dei figlioli di Dan, secondo le loro famiglie, queste città e i loro villaggi. Ora, quando i figlioli di Israele ebbero finito di distribuirsi l'eredità del paese secondo i suoi confini, dettero a Giosuè, figliolo di Nun, un'eredità in mezzo a loro, secondo l'ordine dell'Eterno, gli diedero la città che gli chiese Tinna-Serat, nella contrada montuosa di Efraim. Egli costruì la città, e vi si stabilì tali sono le eredità che il sacerdote Eleazar, Giosuè, figliolo di Nun, e i capi famiglia delle tribù dei figlioli di Israele, distribuirono a sorte a Scilo davanti all'Eterno all'ingresso della tenda di convegno. Così compirono la spartizione del paese. Giosuè, capitolo ventesimo Poi l'Eterno parlò a Giosuè, dicendo, Parla ai figlioli di Israele di loro, stabilitevi le città di rifugio, delle quali vi parlai per mezzo di Mosè, affinché l'omicida, che avrà ucciso qualcuno senza averne l'intenzione, possa ricoverarvisi. Esse vi serviranno di rifugio contro il vindice del sangue. L'omicida si ricoverà in una di quelle città, e fermatosi all'ingresso della porta della città, esporrà il suo caso agli anziani di questa città. Questi lo accoglieranno presso di loro dentro la città, gli stabiliranno una dimora, ed egli si stabilirà fra loro. E se il vindice del sangue lo inseguirà, essi non gli daranno nelle mani l'omicida, poiché ha ucciso il prossimo senza averne l'intenzione, senza averlo odiato prima. L'omicida rimarrà in quella città, finché alla morte del sommo sacerdote, che sarà in funzione in quei giorni, comparisca in giudizio davanti alla radunanza. Allora l'omicida potrà tornarsene e rientrare nella sua città, nella sua casa, nella città donde era fuggito. Essi dunque consacrarono Cades in Galilea, nella contrada montuosa di Neftali, Sikem nella contrada montuosa di Efraim, Kiriat Arba che è Ebro nella contrada montuosa di Giuda, e di là dal Giordano e a oriente di Gerico, stabilirono nella tribù di Ruben, Bezer nel deserto dell'artipiano, Ramoth in Galat nella tribù di Gan, e Golan in Basan nella tribù di Menasse. Queste furono le città assegnate a tutti i figlioli di Israele e allo straniero di Morante fra loro, affinché chiunque avesse ucciso qualcuno involontariamente potesse rifugiarvisi e non essere messo a morte per man del vindice del sangue prima di essere comparso davanti alla radunanza. Giosuè, capitolo ventunesimo Or, i capi famiglia dei Leviti si accostarono al sacerdote Eleazar e a Giosuè, figliolo di Nun, e ai capi famiglia delle tribù dei figlioli di Israele, e parlarono loro a Shilot nel paese di Canaan, dicendo, L'Eterno comandò per mezzo di Mosè che ci fossero date delle città da abitare con i loro contadi per il nostro bestiame, e i figlioli di Israele diedero alla loro eredità ai Leviti le seguenti città e i loro contadi secondo il comandamento dell'Eterno. Si tirò a sorte per le famiglie dei Cheatiti, e i figlioli del sacerdote Aronne che erano Leviti, ebbero a sorte tredici città della tribù di Giuda, della tribù di Simeone e della tribù di Beniamino. Al resto dei figlioli di Cheat toccarono a sorte dieci città delle famiglie della tribù di Efraim, della tribù di Dan e della mezza tribù di Menasse. Ai figlioli di Gerson toccarono a sorte tredici città delle famiglie della tribù di Sakar, della tribù di Asher e della tribù di Neftali e della mezza tribù di Menasse in Basam. Ai figlioli di Merari secondo le loro famiglie toccarono dodici città della tribù di Ruben, della tribù di Gad e della tribù di Zabulon. I figlioli di Israele diedero dunque a sorte coteste città ai loro contadi ai Leviti come l'Eterno aveva comandato per mezzo di Mosè. Diedero cioè della tribù dei figlioli di Giuda e della tribù dei figlioli di Simeone le città qui menzionate per nome le quali toccarono ai figlioli da Aronedi tra le famiglie dei Cheatiti figlioli di Levi perché il primo lotto fu per loro. Furon dunque date a loro Kiriat Arba cioè Ebrom Arba fu il padre di Anac nella contrada montuosa di Giuda col suo contado tutto intorno. Ma diedero il territorio delle città e i suoi villaggi come possesso a Caleb figliolo di Ghefunne e dietro ai figlioli del sacerdote Aronne le città di rifugio per l'omicida Ebrom e il suo contado poi Libna e il suo contado Yattir e il suo contado Este Moa e il suo contado Olom e il suo contado Debir e il suo contado Ahim e il suo contado Yutta e il suo contado e Bet Shemesh e il suo contado nove città di queste due tribù e della tribù di Beniamino Gabaon e il suo contado Geba e il suo contado Anatoth e il suo contado Almon e il suo contado quattro città totale delle città dei sacerdoti figlioli di Aronne tredici città e i loro contati alle famiglie dei figlioli di Kethat cioè al rimanente dei Leviti figlioli di Gehat toccarono delle città della tribù di Efraim fu loro data la città di rifugio per l'omicida a Sichem col suo contado nella contrada montuosa di Efraim poi Gezer e il suo contado Kibezaim e il suo contado Bet Oron e il suo contado quattro città della tribù di Dan El Teke e il suo contado Ghibethon e il suo contado Ayalon e il suo contado Gat Kimom e il suo contado quattro città della mezza tribù di Menasse Tanaac e il suo contado Gat Rimon e il suo contado due città totale dieci città coi loro contati che toccarono alle famiglie degli altri figlioli di Keata ai figlioli di Gerson che erano delle famiglie delle Leviti furono date della mezza tribù di Menasse la città di rifugio per l'omicida Golan in Balsam e il suo contado Beestra col suo contado due città della tribù di Issachar Kishion e il suo contado Dabrat e il suo contado Yarmut e il suo contado Enganin e il suo contado quattro città della tribù di Asche Mishael e il suo contado Abdon e il suo contado El Khat e il suo contado Reob e il suo contado quattro città e della tribù di Neftali la città di rifugio per l'omicida Cades in Galilea e il suo contado Hamot Dor e il suo contado Cartan e il suo contado tre città totale delle città dei Gersoniti secondo le loro famiglie tredici città e i loro contadi e alle famiglie dei figlioli di Merari cioè al rimanente delle viti furon date dalla tribù di Zabulon Iokeneam e il suo contado Cart e il suo contado Dimna e il suo contado Nahalal e il suo contado quattro città della tribù di Ruben Bezzer e il suo contado Yatsa e il suo contado Kedemoth e il suo contado Nefaat e il suo contado quattro città e della tribù di Gad la città di rifugio per l'omicida Ramoth in Galar e il suo contado ma Anahim e il suo contado Eshbon e il suo contado Yeahel e il suo contado in tutto quattro città totale delle città date a sorte ai figlioli di Merari secondo le loro famiglie formanti il resto delle famiglie dei Leviti dodici città totale delle città dei Leviti in mezzo ai possessi dei figlioli di Israele quarantotto città e i loro contadi ciascuna di queste città aveva il suo contado tutto intorno così erano di tutte queste città l'Eterno diede dunque a Israele tutto il paese che aveva giurato ai padri di dar loro e i figlioli di Israele ne presero il possesso e vi si stabilirono e l'Eterno diede a loro requido ogni intorno come aveva giurato ai loro padri e nessuno di tutti i loro nemici potesse a loro in fronte l'Eterno diede loro nelle mani tutti quei nemici di tutte le buone parole che l'Eterno aveva dette alla casa di Israele non ne cadde a terra una tutte si compierono Giosuè capitolo ventiduesimo allora Giosuè chiamò i rubeniti i gaditi e la mezza tribù di Menassi disse loro voi avete osservato tutto c'è con Mosè servo dell'Eterno vi aveva ordinato e avete ubbidito la mia voce in tutto quello che io vi ho comandato voi non avete abbandonato i vostri fratelli durante questo lungo tempo fino ad oggi e avete osservato come dovevate il comandamento dell'Eterno che è il vostro Dio ed ora che l'Eterno il vostro Dio ha dato requie ai vostri fratelli come aveva lor detto ritornatevene e andatevene alle vostre tende nel paese che vi appartiene che Mosè servo dell'Eterno vi ha dato di là dal Giordano soltanto abbiate gran cura di mettere in pratica i comandamenti e la legge che Mosè servo dell'Eterno vi ha dato amando l'Eterno il vostro Dio camminando in tutte le sue vie osservando i suoi comandamenti tenendovi stretti a Lui e osservandolo con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra poi Giosuè li benedisse e li accommiatò e quelli se ne tornarono alle loro tende or Mosè aveva dato a una metà della tribù di Menasse un'eredità in Basam e Giosuè dette l'altra metà dell'eredità fra i loro fratelli di qua dal Giordano a Occidente quando Giosuè li rimandò alle loro tende e li benedisse disse loro ancora voi tornate alle vostre tende con grandi ricchezze con moltissimo bestiame con argento oro rame ferro e con grandissima quantità di vestimenti dividete con i vostri fratelli il bottino dei vostri nemici i figlioli di Ruben i figlioli di Gad e la mezza tribù di Menasse dunque se ne tornarono dopo aver lasciato i figlioli di Israele a Scilo nel paese di Canan per andare nel paese di Galad il paese di loro proprietà del quale avevano ricevuto il possesso dietro il comandamento dato dall'Eterno per mezzo di Mosè e come giunsero alla regione del Giordano che appartiene al paese di Canan i figlioli di Ruben i figlioli di Gad e la mezza tribù di Menasse vi costruirono un altare presso il Giordano un grande altare che colpiva la vista i figlioli di Israele udirono che si diceva ecco i figlioli di Ruben i figlioli di Gad e la mezza tribù di Menasse hanno costruito un altare di faccia al paese di Canan nella regione del Giordano dal lato dei figlioli di Israele quando i figlioli di Israele udirono questo tutta la radunanza dei figlioli di Israele si riunì a Scilo per salire a muovere loro guerra e figlioli di Israele mandarono ai figlioli di Ruben ai figlioli di Gad alla mezza tribù di Menasse nel paese di Galat Fineas figliolo del sacerdote Eleazar e con lui dieci principi un principe per ciascuna casa paterna di tutte le tribù di Israele tutti erano capi di una casa paterna tra le migliaia di Israele essi andarono dai figlioli di Ruben dai figlioli di Gad alla mezza tribù di Menasse nel paese di Galat e parlarono loro dicendo così ha detto tutta la radunanza dell'Eterno che cos'è questa infedeltà che avete commesso contro il Dio di Israele ritraendovi oggi dal seguire l'Eterno col costruirvi un altare per ribellarvi oggi all'Eterno e la poca cosa per noi l'iniquità di Peor alla quale non ci siamo fino al dì d'oggi purificati che attirò quella piaga sulla radunanza dell'Eterno e voi oggi vi ritirate da seguire l'Eterno avverrà così che ribellandovi voi oggi all'Eterno domani egli si adirerà contro tutta la radunanza di Israele se reputate impuro il paese che possedete ebbene passate nel paese che è in possesso dell'Eterno dove è stabilito il tabernacolo dell'Eterno e stanziatevi in mezzo a noi ma non vi ribellate all'Eterno e non fate di noi dei ribelli costruendovi un altare oltre all'altare dell'Eterno del nostro Dio Akan figliolo di Zerat non commise egli un'infedeltà relativamente all'interdetto attirando l'ira dell'Eterno su tutta la radunanza di Israele tal che quell'uomo non fu solo a perire per la sua iniquità allora i figlioli di Ruben i figlioli di Gad e la mezza tribù di Menasse risposero e dissero ai capi delle migliaie di Israele Dio Dio l'Eterno Dio Dio l'Eterno lo sa e anche Israele lo saprà se abbiamo agito per ribellione o per infedeltà verso l'Eterno o Dio non ci salvare in questo giorno se abbiamo costruito un altare per ritrarsi dal seguire l'Eterno se è per offrirvi su degli olocasti o delle obblazioni o per farvi su dei sacrifici di azioni di grazie l'Eterno stesso ce ne chieda conto egli sa se non l'abbiamo fatto invece per tema di questo che cioè in avvenire i vostri figlioli potessero dire ai figlioli nostri che avete a fare voi con l'Eterno che è l'Idio di Israele l'Eterno ha posto il Giordano come confine tra noi e voi o figlioli di Ruben o figlioli di Gad voi non avete parte alcuna nell'Eterno e così i vostri figlioli farebbero cessare i figlioli nostri dal temere l'Eterno perciò abbiamo detto mettiamo ora mano e costruiamo un altare non per olocausti né per sacrifici ma perché serva di testimonio tra noi e voi e tra i nostri discendenti dopo di noi che voglian servire l'Eterno nel suo cospetto con i nostri olocausti con i nostri sacrifici con le nostre offerte di azioni di grazie affinché i vostri figlioli non abbiano un giorno a dire ai figlioli nostri voi non avete parte alcuna nell'Eterno e abbiamo detto se in avvenire essi diranno questo a noi o ai nostri discendenti noi risponderemo guardate la forma dell'altare dell'Eterno che i nostri padri fecero non per olocausti né per sacrifici ma perché servisse di testimonio fra noi e voi lungi da noi l'idea di ribellarci all'Eterno e di ritirarsi dal seguire l'Eterno costruendo un altare per olocausti per oblazioni o per sacrifici oltre all'altare dell'Eterno del nostro Dio che è davanti al suo tabernacolo quando il sacerdote Fineas e i capi della radunanza i capi delle migliaia di Israele che erano con lui ebbero udite le parole dette dai figlioli di Ruben dai figlioli di Gade dai figlioli di Menasse rimasero soddisfatti e Fineas figliolo del sacerdote Eleazar disse ai figlioli di Ruben ai figlioli di Gade ai figlioli di Benasse oggi riconosciamo che l'Eterno è in mezzo a noi poiché non avete commesso questa infedeltà verso l'Eterno così avete scampato i figlioli di Israele dalla mano dell'Eterno e Fineas figliolo del sacerdote Eleazar e i principi si partirono dai figlioli di Ruben e dai figlioli di Gade e tornarono dal paese di Galad al paese di Canaan presso i figlioli di Israele ai quali riferirono l'accaduto la cosa piacque ai figlioli di Israele i quali benedissero il Dio e non parlaron più di salire a muover guerra ai figlioli di Ruben e di Gade per devastare il paese che essi abitavano e i figlioli di Ruben e i figlioli di Gade diedero a quell'altare il nome di Ed perché dissero esso è testimonio fra noi che l'Eterno è Dio Giosuè capitolo ventitresimo or molto tempo dopo che l'Eterno ebbe dato requie a Israele liberandolo da tutti i nemici che lo circondavano Giosuè ormai vecchio e bene innanzi negli anni convocò tutto Israele gli anziani i capi i giudici gli ufficiali del popolo e disse loro io sono vecchio e bene innanzi negli anni voi avete veduto tutto ciò che l'Eterno il vostro Dio ha fatto a tutte queste nazioni cacciandole dinanzi a voi poiché l'Eterno il vostro Dio è quelli che ha combattuto per voi ecco io ho diviso tra voi a sorte come eredità secondo le vostre tribù il paese delle nazioni che restano e di tutte quelle che ho sterminate dal Giordano fino al Mar Grande ad Occidente l'Eterno il Dio vostro le disperderà egli stesso dinanzi a voi e le cacerà dinanzi a voi e voi prenderete possesso del loro paese come l'Eterno il vostro Dio ha detto applicatevi dunque risolutamente ad osservare e a mettere in pratica tutto ciò che è scritto nel libro della legge di Mosè senza sviarvene né a destra né a sinistra senza mischiarvi con queste nazioni che rimangono fra voi non mentovatene neppure il nome dei loro dei e non le fate uso nei giuramenti non li servite e non vi prostrate davanti a loro ma tenetevi stretti all'Eterno che è il vostro Dio come avete fatto fino al di d'oggi l'Eterno ha cacciato dinanzi a voi nazioni grandi e potenti e nessuno ha potuto starvi a fronte fino al di d'oggi uno solo di voi ne inseguiva mille perché l'Eterno il vostro Dio era quelli che combatteva per voi come Egli vi ha detto vegliate dunque attentamente su voi stessi per amare l'Eterno il vostro Dio perché se vi ritraete da Lui e v'unite a quel che resta di queste nazioni che sono rimaste tra voi e vi imparentate con loro e vi mescolate con esse ed esse con voi siate ben certi che l'Eterno il vostro Dio non continuerà a scacciare queste gente dinanzi a voi ma esse diventeranno per voi una rete un'insidia un flagello ai vostri fianchi tante spine negli occhi vostri finché non siete periti e scomparsi da questo buon paese che l'Eterno il vostro Dio va dato or ecco io me ne vo oggi per la via di tutto il mondo riconoscete dunque con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra che neppure una di tutte le buone parole che l'Eterno il vostro Dio pronunciate su voi è caduta a terra tutte si sono compiute per voi neppure una è caduta a terra e avverrà che come ogni buona parola che l'Eterno il vostro Dio vi ha detta si è compiuta per voi così l'Eterno adempierà a vostro danno tutte le sue parole di minaccia finché vi abbia sterminati di questo buon paese che il vostro Dio l'Eterno vi ha dato se trasgredite il patto dell'Eterno il vostro Dio che vi ha imposto e andrete a servire ad altri dèi e vi prostrerete divanti a loro l'ira dell'Eterno si accenderà contro di voi e voi perirete presto scomparendo dal buon paese che Egli vi ha dato Giosuè capitolo ventiquattresimo Giosuè adunò pure tutte le tribù di Israele in Sikhen e convocò gli anziani di Israele i capi i giudici gli ufficiali del popolo i quali si presentarono davanti a Dio e Giosuè disse a tutto il popolo così parla l'Eterno 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 di Israele i vostri padri come Terad padre d'Abramo e padre di Naur abitarono anticamente di là dal fiume e servirono ad altri dèi e io presi il padre vostro Abramo di là dal fiume e gli feci percorrere tutto il paese di Canaan moltiplicai la sua progenie e gli diedi Isacco e ad Isacco diedi Giacobbe ed Esaù e assegnai ad Esaù il possesso della montagna di Seir e a Giacobbe e i suoi figlioli scesero in Egitto poi mandai Mosè ed Aronne e colpì l'Egitto con prodigi che feci in mezzo ad esso e dopo ciò ve ne trassi fuori trassi dunque fuori dall'Egitto i vostri padri e voi arrivaste al mare gli egiziani inseguirono i vostri padri con carri e cavalieri fino al Mar Rosso quelli gridarono all'Eterno ed egli pose delle fitte tenebre tra voi e gli egiziani poi fece venire sopra di loro il mare che li ricoperse e gli occhi vostri videro quel che io fece agli egiziani poi dimoraste lungo tempo nel deserto io vi condussi quindi nel paese degli Amorei che abitavano di là dal Giordano essi combatteron contro di voi e io li diedi nelle vostre mani voi prendeste possesso del loro paese e io li distrussi dinanzi a voi poi Balak figliolo di Zippor re di Moab si levò a muover guerra ad Israele e mandò a chiamare Balam figliolo di Beor poiché vi maledicesse ma io non vogli dare ascolto a Balam egli dovette benedirvi e vi liberai dalle mani di Balak e passaste il Giordano e arrivaste a Gerico gli abitanti di Gerico gli Amorei i Feresei i Cananeli i Tei i Giger Gazei gli Vei e i Gebusei combatteron contro voi e io li diedi nelle vostre mani e mandai davanti a voi i Calabroni che li scacciarono dinanzi a voi come avevo avvenuto ai due re di Amorei non fu per la tua spada né per il tuo arco e vi diedi una terra che voi non avevate lavorata delle città che non avevate costruite voi abitate in esse e mangiate del frutto delle vigne e degli oliveti che non avete piantati ordunque temete l'Eterno e servitelo con integrità e fedeltà togliete via gli Dei ai quali i vostri padri servirono di là dal fiume in Egitto e servite l'Eterno e se vi par malfatto servire l'Eterno scegliete oggi a chi volete servire o agli Dei ai quali i vostri padri servirono di là dal fiume o agli Dei degli amorei nel paese dei quali abitate in quanto a me e alla mia casa noi serviremo all'Eterno allora il popolo rispose e disse lungi da noi l'abbandonare l'Eterno per servire ad altri Dei poiché l'Eterno il nostro Dio è quelli che ha fatto salir noi e i padri nostri fuori dal paese d'Egitto e dalla casa di schiavitù che ha fatto dei grandi miracoli dinanzi gli occhi nostri e ci ha protetti per tutto il viaggio che abbiamo fatto e in mezzo ai tutti i popoli fra i quali siamo passati e l'Eterno ha cacciato dinanzi a noi tutti questi popoli e gli amorei che abitavano il paese anche noi serviremo all'Eterno perché Egli è il nostro Dio e Gesù disse al popolo voi non potrete servire all'Eterno perché Egli è un Dio santo e un Dio geloso Egli non perdonerà le vostre trasgressioni e vostri peccati quando abbandonerete l'Eterno e servirete dei stranieri Egli vi si volterà contro vi farà del male e vi consumerà dopo avervi fatto tanto bene e il popolo disse a Giosuè no no noi serviremo l'Eterno e Giosuè disse al popolo voi siete testimoni contro voi stessi che vi siete scelto l'Eterno per servirli quelli risposero siamo testimoni e Giosuè togliete dunque via gli dei stranieri che sono in mezzo a voi e inclinate il cuor vostro all'Eterno che è lì Dio di Israele e il popolo rispose a Giosuè l'Eterno il nostro Dio è quello che serviremo e alla sua voce ubbidiremo così Giosuè fermò in quel giorno un patto col popolo e gli diede delle leggi e delle prescrizioni a Sichen poi Giosuè scrisse queste cose nel libro della legge di Dio e prese una gran pietra e la rizzò quivi sotto la quercia che era presso il luogo consacrato all'Eterno e Giosuè disse a tutto il popolo ecco questa pietra sarà una testimonianza contro di noi perché essa ha udito tutte le parole che l'Eterno ci ha dette essa servirà quindi da testimonio contro di voi affinché non rineghiate il vostro Dio poi Giosuè rimandò il popolo ognuno alla sua eredità e dopo queste cose avvenne che Giosuè figliuolo di Nun servo dell'Eterno morì in età di centodieci anni e lo seppellirono nel territorio di sua proprietà a Timat-Sera che è nella contrada montuosa di Ephraim al nord della montagna di Gash e Israele servì all'Eterno durante tutta la vita di Giosuè e durante tutta la vita degli anziani che sopravvissero a Giosuè e che avevano conoscenza di tutte le opere che l'Eterno aveva fatte per Israele e le ossa di Giuseppe che i figlioli di Israele avevano portate dall'Egitto le seppellirono a Sichem nella parte di campo che Giacobbe aveva comprata dai figlioli di Emor padre di Sichem per cento pezzi di denaro e i figlioli di Giuseppe le avevano ricevute nella loro eredità poi morì anche Leazar figliolo di Aronne e lo seppellirono a Ghibea di Phineas che era stata data al suo figliolo Phineas nella contrada montuosa di Efraim e lo seppellirono e lo seppellirono a Ghibea di Phineas